Buonasera e benvenuti gentili telespettatori di Puglia, viva la Puglia Channel e viva l'Italia Channel alla seconda puntata di Parliamo di Cuore. Nella prima puntata abbiamo parlato delle malattie più importanti che curiamo nella nostra unità operativa di cardiologia ospedaliera del Policlinico di Bari. Oggi vogliamo parlare delle indagini diagnostiche, delle indagini semplici, ripetibili, incruente che normalmente facciamo nella nostra unità operativa. L'obiettivo di queste trasmissioni è creare con voi un filo diretto. Noi vogliamo rispondere in diretta televisiva, dovete solo telefonare allo 080 557 5718 e noi risponderemo alle vostre domande naturalmente di interesse cardiologico, di patologie, di terapia. Il nostro è un filo diretto con i telespettatori, sono dei consulti telefonici che diamo la possibilità a voi telespettatori di effettuare in diretta. Questa sera ospite con me della trasmissione è il dottor Davide Traversa che è responsabile nella nostra unità operativa di tutti i servizi della riabilitazione cardiologica. Dottor Traversa, a che serve la riabilitazione cardiologica nel nostro ospedale e nella nostra immunità operativa? Buonasera, la riabilitazione cardiologica serve essenzialmente per tutti i pazienti che hanno avuto un infarto, sono stati ricoverati presso la nostra divisione per una sindrome coronarica acuta e ridar loro un ritorno alla vita normale, quindi poterli seguire dal punto di vista medico perché ciò potrà loro consentire un ritorno ad una vita pressoché normale dopo una patologia così importante come quella coronarica. E quindi la riabilitazione cardiologica significa un mese dopo il loro ricovero presso un'unità cardiologica di terapia intensiva svolgere tutta una serie di esami che ci fanno capire come tutto procede, come va il decorso della loro malattia e quindi poi consentire di riprendere quelle attività abbandonate al momento del ricovero però in un'ottica di qualità di vita migliore e più corretta rispetto al precedente. Quindi, dottor Traversa, noi vogliamo dimostrare che la malattia cardiovascolare può diventare una risorsa, una nascita a nuova vita per un paziente che ha avuto un episodio così drammatico. E' così infatti, posso garantire che le persone rinascono a nuova vita, capiscono dove al limite hanno potuto sbagliare quindi cominciano a smettere di fumare, a seguire una dieta corretta, a fare molta attività fisica e a riscoprire le gioie di una vita indubbiamente anche più semplice e migliore dal punto di vista qualitativo perché andare in bicicletta, nuotare, correre, poterlo fare con la consapevolezza di quello che hanno avuto e quindi di riscoprire dei momenti di vita migliori. Ovviamente però rimangono degli ammalati, affetti da una patologia cronica per cui sarà sempre però comunque per loro importante farsi seguire, seguire certe direttive che il proprio sanitario a cui loro sono vicini ovviamente indicherà nel corso degli anni e del proseguo della loro vita, una vita migliore sotto un certo punto di vista. Quindi noi il primo messaggio che vogliamo dare ai telespettatori che non dobbiamo avere la malattia, dobbiamo prevenirla e la vera prevenzione di malattie cardiovascolari così importanti come l'angina, l'infarto e lo scompenso cardiaco sono date dalla prevenzione e soprattutto dal cambiamento degli stili di vita. Noi dobbiamo avere degli stili di vita più a misura d'uomo che riguardano la dieta come aveva detto il dottor Traversa anche l'abolizione del fumo di sigaretta il controllo di alcuni parametri come la pressione arteriosa, l'ipertensione è un vero killer non solo per le malattie cardiovascolari ma anche per l'encefalo perché rappresenta sempre una delle cause principali di insorgenza di ictus e di stroke cerebrali. Ancora questi fattori di rischio rappresentano la probabilità di sviluppare una malattia non dimentichiamo il valore del colesterolo quindi l'importanza di tenere sempre sotto controllo il colesterolo il colesterolo purtroppo non solo viene assunto con i nostri cibi quindi attenzione a scegliere dei cibi a basso contenuto di lipidi però viene anche formato nell'interno dell'organismo la quantità normale di colesterolo che serve nell'organismo è importante perché serve a formare le cellule, le membrane delle cellule, gli ormoni, anche quegli ormoni sessuali però l'eccesso si trasforma in vere e proprie situazioni drammatiche che rappresentano delle placche, un cemento che va a ostruire le nostre arterie e in particolare quelle coronariche e quelle cerebrali Dottor Traversa, noi stasera dobbiamo parlare di indagini diagnostiche ma ritiene che dobbiamo elevare sempre il mito della indagine diagnostica o ritiene che anche la clinica, la vecchia clinica che ci hanno insegnato i nostri maestri abbia valore e importanza per la diagnosi di queste malattie Sì, infatti io provengo, la mia è una generazione che ha tratto sicuramente giovamento da tutte le nuove tecniche diagnostiche così sicuramente lo saranno i miei colleghi negli anni futuri però è importantissima la clinica, parlare con il paziente ascoltare quelli che sono i loro sintomi e poter quindi indirizzare una migliore diagnosi e quindi un migliore esame da richiedere io penso che la medicina sia fatta da tutto questo il parlare, il sentire il paziente e a quel punto lì la clinica con la scelta dell'esame più idoneo spesso è necessario che sia fatto poi da un cardiologo quando parliamo di malattie cardiovascolari essendo questi tra l'altro degli esami anche piuttosto costosi o comunque degli esami che è difficile poter eseguire in tempi brevi quindi bisogna sapere anche farne una giusta scelta soprattutto in quegli ammalati parliamo di prevenzione primaria nel momento in cui quindi prima che si possa presentare o manifestare i segni di una malattia Dottor Traversa io ho ricevuto una domanda poco prima dell'inizio della trasmissione ecco volevo dirle questo gliela riporto è un signore della provincia di Bari di 60 anni che mi dice ho avuto dei dolori al petto e il medico mi ha detto di fare una prova da sforzo ecco qual è la sua opinione? è una prova da sforzo che deve essere fatta immediatamente oppure ritiene che è importante che il paziente sia visitato? è necessario ecco il test da sforzo al cirurgometro la prova da sforzo è indubbiamente uno degli esami più importanti per il cardiologo però magari spesso viene richiesto in maniera impropria è giusto che un paziente che accusa dei dolori al petto prima di tutto sia sottoposto ad una visita cardiologica per poter identificare meglio i caratteri la natura di questi dolori dopodiché accanto al semplice esame di primo acchito che è l'elettrocardiogramma possa seguire un ecocardiogramma esame che ci permette di valutare il movimento delle pareti del cuore il buon funzionamento del cuore e arrivare quindi al test da sforzo al cirurgometro che sicuramente può aiutare aiuta il medico a poter distinguere fra quelle che sono delle sintomatologie cioè fra un dolore realmente coronarico attribuibile a un disturbo anginoso coronarico o magari delle semplici nevralgie quindi un esame importante che va però chiesto in maniera idonea ed interpretato altrettanto in maniera idonea per facilitare indubbiamente il paziente prima di tutto ecco cuore non significa però solo malattia significa anche tempo libero significa anche sport dottor Traversa non crede che proprio la prova da sforzo sia un esame fondamentale per un giudizio di idoneità per tutti coloro che per coloro diciamo che si sottopongono a un'attività sportiva che messaggio vuole dare ai nostri telespettatori è così comunque da dire che la nuova legislatura fa sì che a parte tutti nei centri di medicina sportiva di cui il dottor Guglielmin è grande esperto contemplino l'esecuzione di un test da sforzo ma parlando di noi uomini di mezza età quindi indubbiamente dai 40 anni in su tutti coloro i quali si avvicinano ad un'attività sportiva che implica un certo impegno è giusto che siano sottoposti ad un test da sforzo in quanto il test da sforzo in realtà esclude patologie in atto e soprattutto potrebbe servire a slatentizzare eventuali problemi che potrebbero diciamo celarsi dietro ciascuno di noi anche perché poi spesso alla nostra età parliamo dell'uomo dopo i 40 anni ci avviciniamo alle attività sportive anche intense senza essere ben a conoscenza magari dei nostri limiti e quindi il test da sforzo per questo è molto importante bene dottor Colonna questo è il bello anche della diretta perché il dottor Colonna era impegnato in reparto in terapia intensiva in un'urgenza a proposito tranquilla la terapia intensiva superato il momento difficile dottor Colonna noi abbiamo l'onore anche di avere il dottor Colonna nel nostro staff perché mi piace anche presentarlo oltre come professionista di grande esperienza è il presidente della società italiana di ecocardiografia quindi la più grande autorità in Italia proprio nel settore abbiamo cominciato con il dottor Traversa a parlare di test da sforzo abbiamo cominciato un discorso molto importante per quanto riguarda test da sforzo e sport che spero poi se qualche domanda più specifica venga fatta vorrei approfondire l'argomento però dottor Colonna le do subito la parola che cos'è l'ecocardiografia e a che serve? grazie direttore è un piacere per me poter parlare di questa tecnica che ovviamente ci appassiona come cardiologi perché è bello poter vedere il cuore per decenni si è cercato di vederlo con i raggi e ricordiamo che nel passato addirittura i primi studiosi del cuore addirittura dovevano sezionare il cadavere per capire cosa c'era e come funzionava il cuore infatti si guardavano i cuori dilatati dell'infarto solo aprendo il cadavere oggi è possibile vederlo dal vivo è possibile vedere un cuore che funziona bene un cuore che funziona male e addirittura vedere anche delle piccolissime malformazioni grazie a queste apparecchiature che sono oggi estremamente all'avanguardia ecco se anche per il bello della diretta se la camera può inquadrare anche quell'apparecchio è un ecocardiografo lo avvicino dottor Colonna se lo può avvicinare anche facciamo vedere quanto sia incruento e quanto sia pratico poi fare questo esame ecco può illustrarcele un po' le modalità tecniche questa lo avvicino un po' sull'altro lato spostiamo un po' la luce perfetto ce la facciamo così? si ce la facciamo è piccolino trasportabile in ogni maniera è una tecnica che si avvale di piccolissime sonde come quella che potete vedere qui questa è una sonda tipica dell'ecocardiografia che va sul petto del paziente eccolo qui finalmente siamo riusciti a avvicinarlo va sul petto del paziente e con le varie regolazioni piuttosto complesse riesce a far vedere nel monitor perfettamente anche come si muove il cuore il cuore è una pompa con delle valvole e così si riesce in maniera completa a vedere anche tutte le malattie del cuore ma non solo le malattie del cuore anche delle malformazioni secondarie per esempio nella pressione ipertensione noi vediamo come il cuore reagisce all'ipertensione questo è uno dei classici motivi per il quale viene effettuato un ecocardiogramma l'aspetto interessante dell'ecocardiogramma è che tutte le patologie del cuore possono essere studiate o addirittura prima di fare un grosso intervento l'ecocardiogramma è utile bene abbiamo una domanda in diretta ecco vuole pronto? pronto? sì buonasera vorrei un po' l'audio ecco un attimo solo signora sì posso? sì adesso sì comincio a sentire buonasera professor gugliermi noi ci conosciamo però ho da porgli delle domande delle domande allora prendo appunti come a scuola ok bene allora quello che io le chiedo ci sono dei campanelli d'allarme per capire che c'è qualcosa che non va al cuore? sì le rispondiamo subito quanti anni ha signora? ecco perché allora lei mi conosce è 64 allora non voglio sapere l'età volevo solo sapere l'età per inquadrare il problema perché un campanello ecco perché le ho chiesto questa non per portare per fare una gaffa ma volevo capire ci sono dei campanelli d'allarme a volte che devono essere poi rapportati all'età perché un campanello d'allarme magari un dolore un piccolo dolore una persona di una certa età non ha la stessa caratteristica spesso come prognosi di un dolore che magari può avere un bambino ecco mi scusi solo per questo che tipo di campanello d'allarme lei mi dice cioè un battito accelerato dolore al petto una sensazione di cardiopalmo e anche ma un dolore al petto che è un dolore diffuso oppure un dolore circoscritto sul petto no un dolore circoscritto tanto è vero che mi dura parecchio e poi scarica sulla viscica e mi succede sempre di notte ma si sveglia addirittura per quanto pronto signora si sveglia di notte quando ha questo dolore infatti sto male e dura circa 20 minuti e poi la notte sono nel bagno ah quindi perché scarico molto orinando beh questo diciamo può essere da una base molto semplice che uno squilibrio tra il sistema simpatico e il parasimpatico può essere un dolore notturno magari per un reflusso gastroesofageo questo diciamo possono essere degli elementi naturalmente come situazione extracardiaca un dolore cardiaco invece necessita piano piano degli accertamenti più approfonditi certo ecco avevamo cominciato a parlare di prova da sforzo e questo potrebbe anche essere un esame a lei proponibile però già che abbiamo il dottor Colonna con l'ecografia possiamo anche diciamo combinare la prova da sforzo con gli ultrasuoni giusto rimanga in diretta signora grazie sì in effetti è uno dei nuovi campi di applicazione dell'ecocardiografia quello che noi chiamiamo ecocardiografia da stress o da sforzo si può effettuare la classica prova da sforzo sulla bicicletta o sul tappeto rotante e al picco dello sforzo noi siamo abituati a vedere il paziente sia con elettrocardiogramma sia a guardare i sintomi in maniera tale che come il direttore sottolineava tutti i fastidi di cuore che peggiorano durante sforzo sono degni di un importante approfondimento l'ecocardiogramma ci dà una marcia in più perché riesce uno a vedere quello che è più piccolo perché anche piccoli danni iniziali si vedono meglio con l'ecocardiogramma in più come secondo punto noi possiamo anche vedere la risposta delle valvole ci sono alcune patologie valvolari che durante lo sforzo peggiorano e quindi è una freccia in più nel nostro arco e quindi abbiamo la possibilità di poter approfondire con l'ecocardiogramma questo oltretutto i dolori possono venire quelli delle coronarie dell'infarto che sono i più gravi quelli che il direttore sospetta poter essere sempre in ogni paziente però per esempio ci sono dei doloretti a specifici che sono quelli da infiammazione del pericardio e anche lì l'ecocardiogramma può dirci se questo foglietto che è intorno al cuore il pericardio può essere infiammato e lì ha un'azione importante differenziale quella dell'ecocardiogramma quindi ci sono anche alcune patologie valvolari come diceva il dottor Colonna ma spesso anche nei giovani in coloro che hanno magari un prolasso della mitrale possono essere frequenti queste sensazioni queste algie in sede toracica anteriore che sono completamente aspecifiche mentre ecco perché sottolino il discorso dell'età un dolore soprattutto in una certa età merita come ha detto il dottor Colonna gli accertamenti del caso però quando abbiamo un sospetto con l'ecocardiografia ci fermiamo o andiamo avanti? Sicuramente è una giusta idea quella di avere degli step dei scalini da seguire l'ecocardiografia è il primo che ci accende la luce che qualcosa può non andare bene e poi c'è la possibilità di approfondire tutti questi dolori o sintomi che hanno un qualcosa che non va per esempio se c'è una zona del cuore che non si muove bene potrebbe essere il vaso la coronaria che arriva in quella zona che ha avuto un insulto o in passato lo sta avendo in quel momento e allora si possono eseguire altri test che ci approfondiscono questa analisi per esempio il prelievo del sangue che cerca alcuni marcatori quelli che chiamiamo gli enzimi che possono essere un segno che è un infarto acuto o un infarto da un periodo più o meno breve di tempo c'è stato così come altre tecniche che poi si effettuano in un secondo momento possono comprendere dopo appunto lo stress lo sforzo uno stress uno sforzo è andato male ci indica di eseguire un esame cruento diciamo noi cioè dove il paziente deve essere portato in una sala sterile effettuata una puntura arteriosa e quindi cruento perché c'è del sangue che viene a venire fuori quindi con il rischio anche di complicanze quindi va effettuato nel giusto paziente il giusto esame nel giusto paziente con una scala di progressiva invasività sì perfetto insomma infatti proprio per l'invasività noi oggi parliamo e continueremo il discorso sulle diagnostiche incruente la prossima puntata dovrà essere proprio portata proprio per quella che è l'evidenziazione delle diagnostiche cruente soprattutto le procedure di emodinamica la coronarografia l'angioplastica e le procedure di elettrofisiologia in quanto di questione professor Guglielmi volevo chiederle ecco la seconda domanda la seconda domanda è questa il colesterolo alto può portare dei danni al cuore sì certamente certamente e questo è un messaggio che deve partire dall'infanzia deve partire dalle scuole deve partire dall'educazione perché guardate le placche di colesterolo sono state trovate negli anni 70 addirittura in ragazzi sani quando si facevano dei riscontri autoptici dei ragazzi che morivano in Vietnam a 20 anni e le coronarie erano già infarcite di placche dico proprio dei ragazzi americani perché è lo stile di vita è l'alimentazione ricca di grassi noi abbiamo la fortuna di avere un'alimentazione almeno avevamo e dobbiamo salvaguardarla a denti stretti l'alimentazione mediterranea dove esiste l'olio d'oliva i grassi sono pochi facciamo uso di carboidrati di frutta di verdura e soprattutto consumiamo pesce quindi il colesterolo dobbiamo dobbiamo educarci sin dalla prima infanzia sin dal bambino e dobbiamo continuare questo non solo nell'adolescenza nella maturità e soprattutto nella senilità quindi il colesterolo ha anche dei valori che noi dobbiamo raggiungere però non devono ecco signora questo è importante non esiste un valore univoco per tutti noi abbiamo dei target e soprattutto il paziente che ha avuto già un episodio coronarico quindi ha avuto un infarto soffre di angina soffre delle malattie equivalenti come possono essere le malattie delle carotide dei vasi degli arti inferiori questi pazienti devono addirittura mantenere il target come diciamo noi del colesterolo cattivo cioè delle LDL sotto addirittura i 70 il valore 70 di mille unità per decilitro ecco questo è un valore importante in un individuo invece sano eccetera non deve se ha altri fattori di rischio può tenere dei valori di LDL intorno ai 100 ecco chiedo scusa se ha altri fattori di rischio come il diabete l'ipertensione dobbiamo mantenerlo addirittura al di sotto dei 100 se non ha fattori di rischio possiamo mantenere sempre le LDL intorno ai 110 120 quindi bisogna fare una lotta al colesterolo mi dica signora una terza domanda e poi cedo anche la linea niente le chiedevo se crede e si possono associare i correttori alimentari per un equilibrio ma quelli con la lettera maiuscola perché ce ne sono tanti sul mercato e quindi bisogna stare molto attenti io ne faccio uso e le cito qualcuno il mangostano le chinaccia la foglia d'olivo il succo l'arborescence e quindi per questo cerco di tenere sotto controllo anche il colesterolo perché mi curo sono più vegetariana che mangio la carne però c'è un problema di fondo nella mia famiglia hanno tutti il colesterolo può essere un problema ereditario? Allora rispondiamo subito alla parte finale della domanda purtroppo il colesterolo è un ereditario ecco diciamo la così esistono le ipercolesterolemie familiari che hanno anche carattere genetico dominante o recessivo hanno una penetranza diversa e spesso sono slatentizzate presto proprio dalla dieta io ecco tornando alla medicina naturale io ho molto rispetto per la medicina naturale devo dirle che non ha non ho la formazione culturale proprio di questi studi il mio rispetto va perché ritengo che da come da studioso che la medicina nasce nasce con l'ottenta osservazione delle erbe non dobbiamo dimenticare che la digitale e la varelliana sono delle erbe il progresso tecnologico ci ha permesso negli ultimi decenni nell'ultimo secolo di addirittura fare la sintesi di alcune molecole in laboratorio che sono valide però con grande rispetto ritengo che la medicina naturale possa affiancare quella ufficiale ecco mettiamoli in questo esempio non esiste una medicina buona e una cattiva l'importante però che non si cada nella facilità dell'uso commerciale e di certe anche situazioni di moda che magari possono ecco non far seguire la terapia tradizionale questi farmaci che tra virgolette possono anche essere i nutraceutici c'è una forma a metà che va tra la dieta e la farmacologia tra l'alimentazione e la farmacologia possono anche essere farmaci di supporto però nelle forme canoniche è giusto il messaggio che voglio dare che non vengano abbandonate le terapie tradizionali un esempio drammatico può essere addirittura nelle chemioterapie ci sono stati momenti storici in cui magari si credeva che certe sostanze che non avevano nessuna evidenza scientifica potessero addirittura sostituire dei farmaci ormai codificati e dalle evidenze scientifiche e dalla medicina tradizionale ecco massimo rispetto ci sono ecco l'ananas il primo che mi viene in testa ecco l'ananas insomma noi l'ananas è un più grande proteolitico e serve molto per per digerire avevo accennato la valeriana noi cardiologi dobbiamo nascere con la digitale ce ne sono anche tante il biancospino i fiori di bacche le le bacche di golgi insomma sono farmaci che aiutano anche e stimolano il sistema immunitario aumentano le difese aumentano il senso del fanno passare l'astenia ci fanno anche stare bene non so quanto sia l'effetto placebo però senz'altro la molecola può aiutare credo di ecco più di tanto non posso dirle perché la nostra formazione culturale è quella di una medicina tradizionale infatti tanto di rispetto io rispetto la medicina tradizionale questo è importante il messaggio e assumo anche diciamo medicina alternativa così chiamata alternativa no signora attenzione mai un'alternativa forme lievi ecco possono anche prima magari di iniziare con dei farmaci naturali il vecchio rimedio della nonna di quando si aveva la febbre molto valido della bella tazza di latte caldo col miele la sera per la febbre secondo me è ancora valida è meglio non correre subito come fanno molte mamme con gli antibiotici che magari fanno stare temporaneamente bene il bambino però creano una serie di resistenze e poi di drammi quando si va a curare una malattia ancora più più importante ecco questo voglio voglio dirle io la ringrazio grazie a lei per aver chiamato niente magari ci sentiamo alla prossima volentieri la prossima noi ecco l'occasione per dire la prossima puntata la faremo mercoledì 5 novembre e parleremo proprio di di prove da sforzo di anzi chiedo scusa di coronarografie come dicevo prima grazie mille grazie a lei buonasera grazie buonasera allora dottor Traversi in attesa di un'altra telefonata ecco voglio stimolarle un po' il dialogo abbiamo solo prove da sforzo esiste nella nella medicina nella diagnostica incruente abbiamo qualche altra freccia nel nostro arco a proposito la signora poteva essere anche utile fare un alter oltre alla prova da sforzo all'ecocardiogramma come il mio collega Paolo ha manifestato espresso c'è l'alter l'elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore che ci permette una registrazione del nostro ritmo cardiaco che dura 24 ore talvolta anche 48 ore e che ci permette di evidenziare eventuale presenza di aritmie aritmie sia iper che ipocinetiche cioè quando il cuore va troppo veloce o può rallentare ed è un esame estremamente diffuso perché richiesto comunemente essendo tra l'altro non cruento e questo viene praticamente eseguito per ogni forma di cardiopalmo di sensazione di aritmia in ambito sportivo è un esame estremamente utile molto di fatto a tutte le età l'esame oltre 24 ci permette di poter far diagnosi di sensazione o di malattia vera e propria come per esempio la signora che prima ha lamentato per esempio il fatto di andare spesso ad urinare dopo una sensazione di cardiopalmo dopo una tachicardia prolungata vi sono delle forme di tachicardia che per esempio implicano che cessano proprio con questo bisogno di una poliurea di una menzione abbondante sentiamo la domanda pronto? vuole parlare? pronto? si chi parla? si pronto buonasera sono Elena la chiamo da Bari ho due domande da fare in realtà una per me e una per mia madre posso fare tranne? ok perfetto dunque la prima domanda è per quanto mi riguarda io ho 40 anni sono sana non ho nessun problema tranquillamente è una curiosità ma anche un po' una perplessità ultimamente perché non ho dei sintomi preoccupanti sto bene ma ho la pressione bassa ora volevo capire con la pressione bassa devo comunque preoccuparmi di far controlli o questo diciamo un po' mi salva da qualsiasi tipo di problema di carattere cardiologico cardiaco in generale questa è una domanda mia personale è una domanda giusta e anzi è una domanda molto pratica perché noi in genere curiamo l'ipertensione però esiste l'ipotensione dottor Colonna cerchi di dare signora Elena è giusto questo punto perché è un problema diffuso diciamo più che problema è una situazione diffusa quella di avere la pressione bassa che peggiora di solito nei periodi estivi quando fa più caldo ed è sicuramente molto comune il vantaggio della pressione bassa è che la sopravvivenza a lungo termine la prognosi quella che diciamo noi quanto a lungo può vivere un soggetto visto che si parla di soggetto e non paziente e chi ha la pressione bassa di solito vive più a lungo quindi questa è la prima buona notizia la seconda notizia meno buona è che naturalmente alcuni soggetti soffrono questa pressione bassa soprattutto quando fa molto caldo cosa fare è una malattia non è una malattia è una predisposizione personale che può cambiare a una certa età quando ci si avvicina all'età della senilità anche soggetti con pressione bassa possono avere pressione alta è utile qualche terapia di solito non è necessaria alcuna terapia a meno che non ci siano dei veri e propri svenimenti da pressione bassa in quel caso allora ci sono due tipi di possibili fra virgolette azioni trattamenti trattamenti meglio non andare a quelli farmacologici ma c'è quello di una dieta ricca di sale di solito noi la consigliamo senza sale anche come prevenzione l'unico caso in cui è utile il cloruro di sodio nella dieta è quella dei soggetti che hanno pressione bassa con debolezza e il secondo punto è quando uno agli svenimenti ci sono delle manovre che possono fare per bloccare questi svenimenti contraendo fortemente i muscoli tipo unendo le mani e tirando molto forte così si riesce tante volte a ridurre quella sensazione di svenimento però parliamo di ipotensioni importanti non quella che tante volte ci fa stare un po' male per il resto è una situazione benigna che è inutile trattare con gocce di gutro non ordenne che di solito non fanno molto ma possono scombussolare l'apparato endocrino quindi meglio i rimedi naturali purtroppo qualcuno ha fatto anche uso di cortisonici e questo non è certo una cosa buona dottor Colom ci sono anche degli alimenti che sono consigliabili in questi casi sì per esempio la liquidizia è un qualcosa che può alzare la pressione ci sono dei soggetti sensibili molto alla liquidizia e quindi possono utilizzarla altri soggetti addirittura ipersensibili esistono quelli che hanno una ipertensione solo quando prendono la liquidizia e arrivano a pressione di 160-170 in quelli è controindicata invece in altri soggetti può essere di sussidio per tirar su un po' la pressione questo è un altro punto signora aveva una seconda domanda mi aveva detto mi dica sì intanto grazie per questo mi rassicura quindi grazie vivrà più a lungo e questo gliel'ha detto il dottor Colom adesso ci conto comunque farò del mio meglio anche per mantenere la salute in buone condizioni la seconda domanda invece riguarda mia madre perché dunque deve fare un esame esattamente quello che mi hai denominato prima cioè l'ecocardiografia il punto è che io ho telefonato per prenotare e ci vuole un anno e mezzo ora vorrei capire può attendere tranquillamente quanto incide perché mi sembra strano che per esami del genere bisogna attendere tanto tempo e come voi sapete noi altri sono pazienti qualcosa dobbiamo fare io sono preoccupata perché mia mamma ha 77 anni quindi vorrei sapere come ci si deve regolare in questi casi ecco grazie è una domanda che molto molto diretta molto perché ci vede spesso coinvolti quasi quotidianamente e qui purtroppo c'è il problema delle liste d'attesa problema che non riguarda noi medici in particolare ma riguarda proprio quella che è la filosofia politica proprio l'organizzazione dei settori ecco io mi permetto solo di dire una cosa sarebbe facile dire riduciamo le liste d'attesa aumentiamo il numero dei medici aumentiamo le attrezzature aumentiamo i locali ecco però è una soluzione troppo semplicistica perché tecnicamente non è possibile perché sia questo tipo di ecco di dinamiche organizzative non sono possibili perché purtroppo esistono delle leggi che bloccano le assunzioni quindi dobbiamo sempre lavorare a iso risorse cioè che cosa vuol dire che siamo sempre pochi il turnover anche da leggi viene bloccato quando un medico va in pensione difficilmente viene sostituito proprio per normative di Stato però cerchiamo di fare il possibile ecco un messaggio che io voglio dare anche per tranquillizzare un po' come lei persone come lei e quanti hanno questa problematica ecco l'esame io mi permetto solo questo di dire l'esame specifico non dovrebbe avere molto significato perché l'appropriatezza di una di un'indagine dovrebbe essere alla base della richiesta chiedere così to cure un'ecocardiografia senza che prima sia stato visitato da un cardiologo che ha fatto un piano d'azione per quelle che devono essere le indagini diagnostiche di primo livello è un po' difficile da accettare però ecco poiché purtroppo non esiste un servizio sanitario unico l'ideale sarebbe se ci fosse un servizio sanitario unico europeo invece purtroppo abbiamo 20 servizi sanitari perché il servizio sanitario è regionale possiamo avere delle differenze tra regione e regione in Puglia ecco mi permetto solo di dire questo esistono dei canali di accesso rapido per certe diagnostiche per esempio nel caso specifico cardiologico quando il medico di famiglia pone una diagnosi specifica per esempio un dolore cardiaco nella fase acuta inviterà subito cioè un dolore in atto inviterà il paziente a recarsi a un centro a un pronto soccorso dove possa essere effettuato un elettrocardiogramma però se questo dolore è pregresso lui può chiedere una visita cardiologica urgente e nell'arco per legge nell'arco delle 72 ore il territorio deve tranquillamente dare la disponibilità di esecuzione bene una volta che il paziente va nel territorio e non ha sintomi in atto come può essere come le ho detto prima per il dolore per la pressione alta con magari sintomatologia un iperteso può aspettare però un iperteso che a cefalea ha un'urgenza maggiore il cardiopalmo nella storia è non in atto ecco tutte queste situazioni permettono a questo punto al cardiologo di fare un piano di azione specifico e dal momento che questa è la filosofia della clinica cardiologica ospedaliera di effettuare una sinergia con il territorio e fare una vera integrazione noi ci auspichiamo che anche il cardiologo del territorio sia dotato di attrezzature di primo livello dove possa fare un'ecocardiografia possa fare un alter possa anche fare un test da sforzo quindi in questo caso possa accelerare le cose quindi la problematica per le liste d'attesa è correttezza prescrittiva e quindi diciamo l'appropriabilità proprio della richiesta farmacologica e poi il target del paziente se il dottor Colonna ci vuole aggiungere qualche cosa sì mi fa piacere aggiungere due dati personali del quotidiano oggi pomeriggio abbiamo effettuato 12 ecocardiogrammi per l'utenza esterna di questi 12 11 erano ripetizioni di esami già effettuati chi in meno di un anno chi da due anni e questo è un limite che si correla con quello che il dottor Guglielmi ha appena detto è ben dimostrato da uno studio nazionale ma anche in Europa è stato visto che se noi allarghiamo il numero di esami che forniamo cioè la Puglia riesce a fornire invece di mille diecimila prestazioni di ecocardiogrammi è dimostrato che la richiesta non si soddisferà ma aumenterà progressivamente aumento l'offerta aumento la richiesta e purtroppo un metodo che va contro una buona economia sanitaria fa male al paziente che deve passare più tempo in ospedale fa male ai parenti che devono perdere giornate di lavoro e preoccupazione e dover accompagnare i propri pazienti e parenti la linea è quella che sottolineava il direttore anche quella dell'appropriatezza cioè il giusto esame al giusto paziente probabilmente anche riducendo noi cardiologi stessi e altri medici la prescrizione di esami in più tanto che la nostra società italiana di ecocardiografia sta proponendo diversi tipi di esami cioè che l'ecocardiografia molto spesso sia il completamento della visita elettrocardiogramma il cardiologo che visita e fa l'elettrocardiogramma al paziente nella necessità che egli pensa che possa giovare al paziente stesso effettua anche un ecocardiogramma così risparmia tempo al paziente non fa allungare liste d'attesa e fa buona salute dando la giusta terapia con i giusti esami questa è la proposta del resto l'altro lato è un ecocardiogramma suggerito da un'altra persona se questa altra persona suggerisce l'ecocardiogramma poi dovrà rivederlo per dare un giudizio e questo rallenta e crea difficoltà al paziente stesso oltretutto sulle ricette nostre rosa esistono delle specie di casellina nelle quali è scritto esame effettuabile senza alcuna urgenza in urgenza in emergenza noi non le abbiamo mai attivate qualche altra regione le ha attivate e probabilmente insieme alla riduzione di richieste ridondanti soprattutto la ripetizione degli esami e la giusta prioritarizzazione dell'esame probabilmente è la soluzione più giusta senza dover in maniera non pensata aumentare il numero di esami da effettuare tuttavia la lista d'attesa è sempre un qualcosa che penalizza sia il paziente sia noi medici perché quando sai che devi fare un esame e devi aspettare giustamente resti con la preoccupazione non ho ancora fatto quell'esame e non è una cosa buona per i pazienti e per noi medici penso ecco tornando io vorrei tranquillizzare sua madre perché mi piacerebbe anche sapere perché gli è stato chiesto l'ecocardiogramma e se ne ha effettuati altri nel passato ecco questo è un dato che allora no non ne ha effettuati altri nel passato e ha un problema di pressione alta e purtroppo anche qualche mal di testa è diventato un po' più sequente una non ho capito pressione alta e poi qualche mal di testa che ultimamente è un po' più frequente ma questo mal di testa è legato magari alla pressione più alta quello che pensiamo però appunto siamo in questa fase e ci hanno detto di fare questo controllo adesso non abbiamo ancora una diagnosi ecco io la tranquillizzo cioè sicuramente l'ipertensione dovrà fare dei farmaci quindi è necessario ottimizzare al meglio la terapia l'ecocardiografia ci permette di vedere di quantizzare il danno d'organo vedere se esiste l'ipertrofia del ventricolo di sinistra se c'è se c'è una dilatazione del ventricolo però sono sempre dati aggiuntivi che a una bella a una buona terapia deve possono essere di aiuto però è necessario impostare il paziente sul piano clinico e sul piano terapeutico ecco se la sua mamma fosse stata vista dal cardiologo senz'altro nel corso della stessa visita sicuramente un ecocardiogramma poteva essere fatto quindi torniamo al messaggio che il territorio deve essere diciamo rinforzato almeno per quanto riguarda le indagini di primo livello poi sarà lo stesso cardiologo se vuole andare avanti a interfacciarsi con le strutture ospedaliere noi cerchiamo proprio di rendere operativa l'integrazione ospedale territorio Policlinico di Bari non vogliamo fare il primo livello perché abbiamo un altro tipo di patologie da studiare però siamo disponibili dottor Colonna me lo può dire in tempo reale quasi ad effettare le indagini ecocardiografiche di secondo livello quali sono queste indagini dottor Colonna in effetti il piacere nostro è quello di vedere i casi un po' più difficili che ci vengono spesso inviati da altri colleghi medici o cardiologi di altri ospedali perché qui abbiamo la possibilità naturalmente di effettuare delle prestazioni più complesse delle ecocardiografie con tutte le ultime possibili avanzamenti tecnici e anche naturalmente l'esperienza di vedere casi un po' più particolari sui quali ci viene richiesta una seconda opinione per esempio esiste una tecnica che fa ingoiare al paziente una piccola sonda sonda grossa quanto un un dito mignolo un maccherone e con questa vedere il cuore da molto da vicino è quella che si chiama l'ecografia transesofagea perché dall'esofago guardiamo il cuore come se stessimo seduti proprio vicino alle strutture cardiache è sicuramente precisa permette anche di fare una ricostruzione tridimensionale cioè invece di vedere un'immagine piatta sullo schermo noi possiamo vedere proprio l'aspetto tridimensionale che ora addirittura va di moda anche sugli aspetti cinematografici perché allora non utilizzarlo per la tecnologia cardiologica come stiamo attualmente facendo altre tecniche avanzate di ecocardiografia sono quelle che permettono di vedere anche dei piccoli fastidi su anche zone molto piccole con gli aspetti del movimento del cuore oppure col movimento delle valvole che può essere studiato anche nei dettagli più limitati in maniera tale da poter completare una diagnosi e la miglior terapia che viene data solo quando veramente si conosce bene nel cuore del paziente ecco proprio per ringraziarla e anche per salutare lei è stata molto stimolante insomma in genere non vogliamo cadere un po' noi nella trappola della politica perché siamo tecnici vogliamo fare il nostro lavoro vogliamo farlo bene e speriamo che l'utenza dica che lo facciamo bene questo è il nostro obiettivo però io la ringrazio per averci stimolato ecco l'ultima cosa che voglio dire vede un messaggio anche da dare anche agli stessi colleghi non bisogna mai cadere nella trappola della medicina difensiva a volte si chiedono esami proprio per tenere per stare a posto per la paura un domani del risarcimento delle problematiche legali perché adesso purtroppo c'è una campagna anche di stampa che è pronta ad enfatizzare la mala sanità mentre esiste tanta tanta buona sanità è un proprio un elogio da fare perché siamo baresi e ne siamo molto fieri di questo fatto l'ordine dei medici di Bari ha fatto proprio una campagna che è contro la burocratizzazione contro la medicina difensiva la città di Bari è piena di manifesti che ci dicono che il medico pensa al malato non pensa alla malattia il medico il malato non è un modulo da riempire e questo io credo che sia un merito proprio dell'ordine professionale della provincia di Bari grazie grazie signora proprio se vorrà richiamare noi ne saremo lieti è stata molto esaustiva e molto stimolante per noi ringrazio voi e soprattutto spero che quelle proposte alle quali avete fatto riferimento vadano in posto così magari ci sarà maggiore efficienza e quindi maggiore possibilità per noi altri insomma di hotel e servizi migliori intanto grazie e buon lavoro grazie grazie signora dottor Traversa nella tempo era arrivata anche un'altra domanda che le giro ecco purtroppo ci stanno ascoltando dei pazienti anziani che sono sempre soggetti alle problematiche pensionistiche legate alle malattie un signore di una certa età ecco della provincia di Foggia mi ha detto dice ogni volta c'è questa richiesta della classinia sulle richieste ecco vuol dirci che cos'è questa questa classinia che noi diciamo troviamo spesso come nelle a corollario della richiesta di visita cardiologica questo è sempre un mistero non è facile per noi cardiologi spesso affrontare questa tematica perché è un argomento su cui con la richiesta negli anni di esigenze pensionistiche per noi ecco tante volte quando ci viene fatta questa domanda si cerca di aiutare il paziente che si trova invischiato in una pratica burocratica per cui vengono richieste determinate caratteristiche determinati requisiti di malattia la classe funzionale NIA è una classificazione in relazione ad una sorta di funzionalità cardiaca ad eventuali segni di scompenso cardiaco cioè tutti i pazienti che sono affetti da una cardiopatia ipertensiva da una cardiopatia infartuale da una cardiopatia da una reale seria malattia possono essere classificati da un punto di vista funzionale in base alla presenza di certi sintomi con questa classenia è chiaro che la classenia sono quattro le classi ovviamente superiore più elevato è il livello vuol dire che la malattia è più grave e quindi a questi organismi preposti al povero paziente viene richiesta una visita cardiologica che possa identificare con esattezza più o meno la classenia in base ai sintomi presentati dal paziente noi cerchiamo spesso dobbiamo essere obiettivi per quello perché anche una classenia deve essere sempre comprovata da esami come l'ecocardiografia come la reale clinica è un grosso problema perché sicuramente in Italia si è molto largheggiato per certe per queste situazioni il rilascio di facili attestati di invalidità o meno ora il paese vive le sue difficoltà e quindi anche questo sembra giusto che vada un pochino rivisto quindi ci deve essere sempre maggior serietà da parte dei medici anche se stringe il cuore quando hai di fronte a te pazienti che hanno bisogno magari di un dato clinico in più perché possano guadagnare qualche cosa in più sulla pensione quindi noi siamo molto combattuti fra voler aiutare il paziente e pensare ad un paese che ha bisogno anche di essere aiutato e rimesso a posto anche sotto queste piccole cose sono quei lati del nostro lavoro che tante volte non è facile affrontare il medico lavora sempre con il cuore e dobbiamo sempre trovare il giusto equilibrio tra testa e cuore dottor Traversa torniamo un po' alla riabilitazione abbiamo pochi minuti se c'è qualche telefonata altrimenti le passo volentieri la parola e torniamo alla riabilitazione ecco ma la riabilitazione che viene fatta nella nostra unità operativa che cosa prevede il ricovero no no la nostra è una riabilitazione ambulatoriale la riabilitazione ambulatoriale per tutti i pazienti che hanno avuto un infarto un infarto aguto del miocardio o una malattia anginosa per cui sono stati ricoverati in cardiologia e che non necessitano di una riabilitazione degenziale esistono due tipi di riabilitazione i pazienti più gravi devono essere ricoverati per proseguire una loro convalescenza e invece tutti i pazienti che superano brillantemente anche grazie alle nuove tecniche delle procedure di angioplastica possono fare una riabilitazione ambulatoriale vengono qui da noi per circa un mese un mese e mezzo due o tre volte alla settimana e questo non implica nessuna spesa nessun problema ed è sicuramente estremamente più comodo e più piacevole per i pazienti stessi abbiamo due minuti proprio concludiamo con l'ultima telefonata pronto? pronto buonasera buonasera io chiamo da Andrea e così facendo trapping ho visto questa interessante trasmissione grazie siccome è stato da poco effettuato una visita cardiologica a mia madre signora abbiamo pochi minuti che purtroppo e praticamente gli hanno consigliato perché hanno riscontrato una stenosi calcifica valvolare aortica di grado moderato e quindi gli hanno consigliato una coronarografia e una ortografia siccome non so di cosa si tratta allora signora ecco ho capito il problema noi parleremo di coronarografia nella prossima puntata però ecco ho focalizzato la cosa sua mamma sua ha una patologia della orta una stenosi che è calcifica e probabilmente dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico il chirurgo si fida molto naturalmente dell'ecocardiogramma però quando deve cominciare ad operare ha bisogno di sapere qual è la situazione anatomica delle coronarie e quindi la coronarografia è l'esame ideale proprio per dare il dato al chirurgo affinché potrà effettuare l'intervento pur nel rischio alto con una maggiore serenità è un esame che noi facciamo si conserva il numero ci chiami perché se vuole noi possiamo ricoverare mamma sua e quindi potremmo effettuare la coronarografia se diciamo vuole aspettare anche per avere maggiori spiegazioni il giorno 5 il 5 di novembre spero se mi confermano anche alle 18 ecco mi confermano anche questo io vi aspetto su questi emittenti viva la Puglia Channel e viva l'Italia Channel sia sulla piattaforma Sky che sul digitale terrestre signora noi siamo si conservi il numero ci chiami io volevo sapere solo flash questa cosa ma è invasivo questo tipo di esame sì la coronarografia è invasiva ci sono due modalità di ingresso del catetere nelle coronarie sia attraverso l'arteria femorale adesso noi invece cerchiamo di favorire più la tecnica brachiale attraverso il braccio l'arteria brachiale perché questo permette di dare mi scusi l'espressione meno fastidio al paziente quando ha effettuato la coronarografia un intervento sulla femorale significa bloccarlo per tutta la notte per più di 12 ore mentre un intervento sulla radiale ci permette tranquillamente dopo poche ore di camminare tranquillamente in corridoio e il giorno dopo ritornare a casa ecco l'aspettiamo veramente l'aspettiamo per il giorno 5 ci saranno strossi ci saranno altri due validissimi collaboratori che sono molto esperti sia nella nella tecnica dell'emodinamica che nelle tecniche di elettrofisiologia ora se quanti secondi ho a disposizione il piacere solo di ringraziare tutti voi tre minuti ah e allora tre minuti allora dottor Colonna proprio in tre minuti proprio mi dica facciamo solo tecnologia o badiamo anche ad umanizzare il rapporto con i pazienti beh questo è il primo punto come hai sottolineato giustamente in qualche minuto fa dobbiamo prima curare il paziente e non curare la malattia e naturalmente oggi trovare il giusto intervento per il giusto paziente è fondamentale e chiunque di noi consigli a una paziente come l'ultima signora che ha chiamato la coronarografia o la ortografia deve anche perdere il giusto tempo impiegare il giusto tempo a spiegare bene quali sono i pro e contro di ogni esame cosa succede se lo si fa o se non lo si fa quali sono anche i vantaggi e svantaggi di ogni farmaco di ogni trattamento perché oggi sempre più stiamo vedendo noi medici troppo occupati che diciamo faccia questo questo e questo che le abbiamo scritto sul foglietto e poi si lascia il paziente un po' solo lasciato a se stesso quindi oggi l'umanizzazione è sicuramente qualcosa che pur se lasciata negli ultimi anni a favore di una tecnologia avanzata deve essere probabilmente quella essere ripresa siamo un po' qui oggi tutto un team che pone questo punto all'interno del nostro reparto ma anche come messaggio al collega che riceve le nostre informazioni di essere vicini alla spiegazione completa non c'è solo tecnologia ma c'è soprattutto empatia cioè essere vicino al paziente e sentire che stai soffrendo con lui un dubbio o una malattia quando l'hai sofferta puoi più facilmente entrare nei panni di chi ti è di fronte e spiegargli o indicargli il meglio anche voi pazienti o soggetti farete meglio una prevenzione o una terapia se sapete che noi ve l'abbiamo data con coscienza e dopo averci pensato su una o due volte piuttosto che solamente scritto rapidamente un foglietto e dire faccia questa medicina che basta per tutto penso che essere insieme quella che si dice alleanza fra medico e paziente sia la chiave vincente che non dobbiamo mai dimenticare ecco noi facciamo qui proprio una medicina col cuore noi siamo una struttura pubblica quindi non lo facciamo assolutamente per una pubblicizzazione noi vogliamo creare il dialogo il filo con voi vogliamo spiegarvi quelle che sono le situazioni affinché ci possa stare come diceva il dottor Colonna questo patto con questa santa alleanza con il cittadino utente io vi ringrazio veramente grazie per la partecipazione e vi do il benvenuto alla prossima puntata pronto? pronto? sta ancora in linea? si ah no e allora la ringrazio nuovamente pensavo di essere grazie grazie signora ci aspettiamo il 5 novembre perché sarà sicuramente eh sì certamente certamente l'aspettiamo il 5 novembre grazie a tutti e buona serata a tutti voi grazie grazie a tutti grazie a tutti